Noi entriamo sul tema però della giornata della prima mezz'ora che è uno dei temi dell'estate, tra l'altro il nostro ospite Gabriele presenteremo, ci sottolineiamo un fatto, ne parliamo già da anni e ancora la soluzione sembra che non si sia trovata in nessun modo. Possiamo dire estivo ma anche invernale perché questo tema non si ferma mai, ti lascio l'onore di presentare il nostro ospite qui accanto a noi. No, abbiamo William Novis che avete già conosciuto nel corso delle altre trasmissioni, William grazie per essere qua. Grazie dell'invito. Grazie William, ci rivediamo. Accettato. Ci eravamo lasciati un anno fa e ci riconosciamo qua. Sono rimasta con le stesse problematiche, non è cambiato nulla. Questo fa sorridere ma anche riflettere purtroppo. Sì, diciamo che il tessuto sociale ancora non è cosciente e consapevole di quello che realmente sta succedendo con le truffe, con il digitale, con tutto quello che ci gira attorno. È una consapevolezza che emerge a livello dialettico ma che forse manca a livello pratico. Le truffe agli anziani sono un reato sempre più comune e preoccupante nel nostro paese. Molti truffatori approfittano della vulnerabilità degli anziani che spesso sono isolati e meno informati sulle tecnologie e sulle tecniche utilizzate. Le istruzioni dei furbetti possono assumere molte forme diverse. Una delle più frequenti, come dichiarato da Alessandro Menini, dirigente della sezione Reati contro il patrimonio della squadra mobile di Roma, è quella del falso nipote, nella quale i malfattori, fingendosi dei cari, raccontano di avere problemi economici o con la giustizia per portarsi a casa una somma di denaro. Dicono di avere immediatamente bisogno di soldi e che un amico verrà a prenderli il prima possibile. Tengono l'anziano al cellulare fino a quando il complice non arriva nell'abitazione, in modo tale da non concedergli il tempo di ripensarci e eventualmente chiamare un parente per dare dei chiarimenti. Ma questa è solo una delle tante truffe scogitate. Tra queste si contano quelle del controllo del denaro prelevato e la truffa del pacco. Attenzione, infatti, se vogliono consegnare un pacco a fronte del pagamento di una somma di denaro, asserendo che la merce era stata precedentemente ordinata dai vostri figli, parenti o comunque da persone a voi note. Per proteggere gli anziani dalle truffe è importante educarli sulle strategie utilizzate dai truffatori e fornire loro strumenti per proteggere le proprie finanze. Inoltre è importante che i familiari e gli amici degli anziani prestino attenzione ai segnali di possibili raggiri e li supportino nella segnalazione di eventuali attività sospette alle autorità competenti. La consapevolezza e la vigilanza possono aiutare a prevenire le truffe e proteggere gli anziani da danni finanziari e psicologici. Il servizio che abbiamo visto, realizzato dalla nostra Benedetta Damiani, è un servizio a tutto tondo. Però è chiaro che il tema truffa agli anziani, ultimamente, William, si sta molto spostando a livello web, a livello internet, con il classico accettare i cookie, con il classico toccare le mail, il tema del phishing. Insomma, come difendersi e come aiutare le persone anziane a difendersi da tutto ciò? Allora, si sta spostando soprattutto per gli anziani a livello web, perché oggi gli anziani hanno anche un dispositivo, un telefono, uno smartphone, che permette la navigazione, la ricezione di mail, offerte e quant'altro. Quindi anche per loro sta diventando molto accessibile questa realtà. Qual è il contesto? Sicuramente chi è vicino ai nipoti, figli, parenti, quello che vuoi tu, devono instradarli, perché per loro è un mondo nuovo, no? Immaginate che per loro è come se fossero, tra virgolette, su un altro pianeta. Questo è il contesto. E loro sono logicamente ingenui, perché comunque non hanno coscienza e consapevolezza di capire se clicco qui cosa succede o se non clicco qui cosa non succede. Quindi nel momento in cui, diciamo, l'anziano di turno arriva a una mail, un sms, una chiamata un po' sospetta, è giusto contattare un parente. Questo è la realtà, il primo passo. Poi nel momento in cui sicuramente gli dicono clicca qui perché ti deve arrivare un pacco, hai vinto uno smartphone, perché queste sono le migliori che girano sul web. Capite benissimo che già lì deve venire un campanello d'allarme. Ma tutto questo comunque è scatenato perché oggi c'è un problema anche di distribuzione delle singole informazioni degli individui, nel famoso, diciamo, nel backstage, accettare questi benedetti cucchi, accettiamo, navighiamo, facciamo. E inizialmente si dice che non crea nessun problema il telemarketing, cosiddetto il telemarketing. E poi io mi domando sempre ma come vengono a sapere queste persone, i numeri di telefono di determinati anziani. Questo è il dilemma a monte. Ma questo è un tema enorme, nel senso qua c'è anche un tema di privacy gigantesco. Questo è un problema, secondo me, che va al di fuori del contesto tecnologico, perché come fanno i, diciamo, furbetti, per non definirli in un'altra maniera, a conoscere il numero di telefono di un anziano, che tra l'altro sta da solo, non ha figli, non ha marito, cioè non ha nulla. Questo è il tema vero. E quindi quando noi parliamo di privacy, allora a questo punto dico, ma privacy di che cosa? Esatto. Questo è il dilemma. E poi, tra l'altro, mi aggancio a questo tema da te alzato, William. Però io rigiro questa tua riflessione al nostro ospite in studio, perché la nostra privacy, bene o male, noi abbiamo i social, siamo anche nel nostro molto molto piccolo, personaggi che si espongono all'interno della televisione e dunque... Lanciamo tutta ormai la nostra vita sui social, purtroppo o per fortuna. Però io faccio la domanda che non so, cioè per noi giovani riusciamo in qualche modo arginare il tema. L'uomo della strada però si chiede, la persona di 90 anni, che non ha Facebook, non ha nulla che concerne il mondo dei social, niente, non ha dato il numero a nessuno. Come fa, William, a trovarsi dei messaggi, anche semplici SMS, in cui si rimanda un link che se ci si clicca sopra si prendono i dati della banca? Come ci si arriva a tutto questo? Allora, tutto questo ci si arriva con una modalità molto diretta. Nel momento in cui si stipula, soprattutto per gli anziani, a liveare ancora front-end con un ufficio, quindi a livello analogico, chiamiamolo così, si stipula un contratto con un gestore di energia, di gas, di acqua, quello che volete voi e nelle famose clausole spunta qui, spunta qui, ce n'è una in particolare che dice che tu sei sottoposto a, diciamo, strategie di marketing, no? Capire i tuoi consumi, eccetera, eccetera. Ecco, per gli anziani non leggono quegli, diciamo, quadratini che sono scritti anche in caratteri indecifrabili, come li definisco io. Ecco cosa succede, che poi queste banche dati, quello che dico sempre io è, ma chi gestisce realmente queste banche dati? Perché a questo punto non è più un problema del gestore telefonico, questo è il discorso. Chi è? C'è un intermediario? C'è qualcuno che ha accesso? Ecco, oggi dico sempre che la trasparenza per tutti è la cosa fondamentale. Nel momento in cui a me viene comunicato, guarda, il tuo numero di telefono ce l'ha, boh, tale dita, che gestisce questi servizi. Ok, dimmelo. Non nascondermi, perché io devo venire a sapere, attraverso purtroppo truffe, succede una marea, guarda, ti parlo di un caso mio dicembre, gennaio, hanno clonato la mia identità. Tu dici, è un esperto come te. Sono riuscito. Proprio perché sei esperto, secondo me, volevano... No, sono riuscito, sono rimasto basito anch'io perché, tra virgolette, mi ha contattato un gestore telefonico degli smartphone mobile, mi ha detto, ma lei ha tre SIM attive, io. Tra l'altro in una bolletta telefonica del telefono fisso di casa mi sono trovato 400 euro di addebito perché avevano comprato anche il televisore. Mamma mia. Quindi tu capisci che... Se clonassero le nostre identità, che cosa ci sarebbe? Niente. Eh, ma questo è quello che... Non so, stiamo proprio in un metaverso che è più metaverso Ma stiamo andando verso quella direzione perché nel momento in cui tu... Io chiamo standardizzare l'accesso alle piattaforme, perché oggi abbiamo difficoltà di questo. Cioè lo speed si usa... Faccio l'esempio dell'identità digitale. Lo speed si usa a metà e tu già vuoi utilizzarlo su Amazon, dove vuoi tu, non si può utilizzare. Allora, creiamo uno standard. Quando io sono un padrone della mia identità, decido io come andare, a chi dare e cosa dare. Nel momento in cui decido questo, allora i cosiddetti big tech, i glossy player a livello globale si trovano anche a spalle al muro. Ma nel momento in cui c'è una libertà di concedere informazioni personali e quant'altro, diventa difficile poi andare da Google, Facebook... Esatto, diventa il famoso discorso del coltello dalla parte del manico, anche a livello di internet. William, quindi a questo punto, dato che questi metodi, queste tecniche un po' si ripetono, sentiamo sempre la solita cosa. Tuttavia, come abbiamo sempre detto fin dall'inizio del programma, le truffe sono sempre più in aumento. Quindi come mai, se i metodi sono sempre gli stessi, comunque le truffe aumentano? Come mai non c'è la percezione di capire che effettivamente quella persona davanti a noi ci sta truffando? C'è la percezione perché la persona che subisce la truffa non ha gli strumenti per capire quel contesto, quella condizione. Gli strumenti come, diciamo, devono essere integrati in ogni singolo individuo di una società civile, come la chiamo io. Ho prenduto nel contesto anziani, io so del parere che non si può fare l'informazione e la formazione porta a porta perché sarebbe un omicidio personale, come si suol dire. Ma si può fare attraverso che cosa? dei circoli ricreativi dedicati agli anziani. Ecco, la polizia postale, chi ha le competenze o quant'altro, dedicare un'ora, due, tre ore alla settimana in modo che queste persone, come diceva la dottoressa prima, raccontino anche le loro esperienze. Perché la paura di raccontare diventa anche difficile poi capire il problema a monte per chi è, diciamo, coinvolto in questo contesto. Quindi come diceva la dottoressa, secondo me il raccontare tra di loro, le loro coetanee, queste problematiche, è più facile. Quindi si può fare solo attraverso dei circoli ricreativi dedicati a queste persone, quindi le associazioni culturali e quant'altro. Altrimenti la soluzione porta a porta è un fallimento, non è applicabile oggi in questo contesto, in questo momento. È sicuro, c'è da farli capire che, nel senso che si sta andando verso totalmente un'ottica totalmente digitale, non usciamo più da questo contesto, dobbiamo entrare sempre in questo paradigma. E quello che è rimasto, come dico io, analogico, dobbiamo iniziare a capire quanto è conveniente, quanto è tutelato e perché. Quello che dici è sicuramente un tema virtuoso, ed è una soluzione virtuosa. E questo è un tema enorme che ovviamente apriremo magari anche nelle prossime puntate, il sistema Italia. Potremmo dire che dovrebbe esserci molta più informazione rispetto a questo tema, forse ce n'è troppo poca? Con questo chiudiamo. Sono in parte d'accordo con il vostro collega collegato, è restrittivo il discorso dei circoli, è sbagliato dire così, perché comunque intanto arriva una porzione di popolazione, punto primo, e non a zero, intanto arriva una percentuale. Punto secondo, quello che non arrivo, lui dice che negli altri paesi funziona perché hanno internet, si collegano, eccetera, eccetera. Peccato che negli altri paesi, ricordo che i primi dieci a livello europeo dell'indice DESIGA e l'indice della digitalizzazione a livello degli stati europei, sono i paesi dell'est. La domanda che dobbiamo porci è, come mai i paesi dell'est sono passati da una guerra alla totale digitalizzazione? Oggi l'anziano in Slovenia, Lituania, questi posti qua, si prenota tranquillamente l'attack attraverso uno smartphone. Perché lui lo fa e noi è un tema che sicuramente apriremo anche nelle prossime. Se lo diciamo ai nostri nonni, probabilmente. Grazie William, grazie di cuore, a parte di prossimo, tornerai a trovarci, grazie a tutti.